Grazie John e grazie a tutti voi. Quando ho visto il programma ho notato che ero stato inserito come l'ultimo oratore e ho pensato, beh, è una grande notizia. Gesù ha detto che gli ultimi saranno i primi, giusto? Poi però mi sono reso conto che questo non vale per gli oratori delle conferenze. In ogni caso, sono felice di essere qui con voi. Penso che chiunque abbia avuto il piacere di incontrare padre Nicholas Gruner di persona o che abbia partecipato ad una delle sue conferenze o abbia letto uno dei suoi libri o articoli, sa che padre Gruner non era affatto un ingenuo, al contrario. Padre Gruner conosceva molto bene la malizia che alberga spesso nel cuore degli uomini, anche di tanti uomini di chiesa. Infatti, per padre Gruner, questa malizia il più delle volte si è esplicitata nella persecuzione che ha dovuto subire a causa dei suoi stessi fratelli sacerdoti e vescovi. Possiamo ben dire che la persecuzione fosse il suo pane quotidiano e lo è stato per decenni. In altre parole, stiamo parlando di un uomo che ha combattuto faccia a faccia con il demonio e che conosceva il male meglio di tanti altri. Padre Gruner era un uomo molto forte, credetemi, eppure in quella che sarebbe stata l'ultima sua newsletter, inviata verso la fine di marzo 2015, si emozionò moltissimo nel riportare una conversazione che aveva avuto poco prima con Don Gabriele Amort, il famoso esorcista del Vaticano. Padre Gruner aveva scritto che «Le sue parole mi avevano scosso come poche altre in passato. Ecco, non so voi, ma questo per me è sufficiente ad ottenere la mia attenzione». Don Amort, scrive Padre Gruner, «Mi ha detto che abbiamo poco tempo a nostra disposizione prima che i castighi predetti dalla Madonna di Fatima comincino a lacerare il nostro mondo in modi difficilmente immaginabili. Quanto tempo? Meno di otto mesi». Padre Gruner continua «Don Gabriele Amort mi ha detto che a meno che la consacrazione della Russia non venga compiuta come la Madonna aveva richiesto entro la fine dell'ottobre 2015, le profezie di Fatima potrebbero abberarsi da un momento all'altro». In un articolo apparso sull'ultimo numero del Fatima Crusader e a Don Amort erano stati chiesti lumi sulle sue parole a Padre Gruner in merito al prossimo castigo e aveva così risposto «Penso che sia ormai vicino, sempre di più. Il Signore vuole farsi sentire. Così, secondo Padre Amort, ci troviamo nelle fasi iniziali di quelle oscure profezie di Fatima le quali si verificheranno presto». Molti pensano che questo castigo si manifesterà come un evento improvviso da notizia del telegiornale. Può anche essere, ma c'è un aspetto graduale nelle oscure profezie di cui ha parlato la Madonna di Fatima. Tra coloro che erano a conoscenza degli avvertimenti contenuti nel terzo segreto di Fatima c'è sicuramente Padre Malachi Martin, che ebbe modo di leggere personalmente il testo del segreto. Secondo Padre Martin, in quei primi giorni di castigo, Dio ritirerà la sua grazia. Come può essere? Ovviamente, ciò non significa che la Chiesa cesserà di esistere, perché sappiamo che questo non accadrà mai, né significa che la grazia non potrà più essere ricevuta nei sacramenti. Significa, semmai, che coloro che hanno il compito di nutrire il grege del Signore saranno lasciati a se stessi, per così dire. Dio permetterà a loro, per la loro stessa disobbedienza, di allontanarsi dalle grazie necessarie per perseverare, difendere ed insegnare la fede con chiarezza e convinzione. Chi parlò proprio di questo, cioè di quel che potrebbe comportare il ritiro della grazia da parte di Dio, è niente meno colui che sarebbe diventato in seguito Papa Pio XII, il Cardinale Eugenio Pacelli, il quale, sul messaggio di Fatima, ebbe a dire le seguenti incredibili parole. Sono preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di Fatima. Questo insistere da parte di Maria sui pericoli che minacciano la Chiesa è un avvertimento divino contro il suicidio di alterare la fede, della sua liturgia, la sua teologia e la sua anima. Sento tutto intorno a me. Questi innovatori che desiderano smantellare la Sacra Cappella, distruggere la fiamma universale della Chiesa, rigettare i suoi ornamenti e farla sentire in colpa per il suo passato storico. Verrà un giorno in cui il mondo civilizzato negherà il proprio Dio, quando la Chiesa dubiterà come ne dubitò Pietro. Tra l'ora ha tentata a credere che l'uomo sia diventato Dio. Delle nostre Chiese i cristiani cercheranno in vano la lampada rossa dove Dio li aspetta, come Maria Maddalena e lacrime dinanzi alla tomba vuota si chiederanno dove lo hanno portato. Questo non è un comune avvertimento sulla debolezza dei sacerdoti o sulla mondanità di qualche vescovo, perché la Chiesa ha sempre avuto persone del genere tra le sue fila. No, il futuro Papa Pio XII andò ben oltre, dicendoci che gli avvertimenti della Madonna riguardano persone senza fede che potrebbero addirittura arrivare ad occupare il soglio pontificio. Come facciamo a saperlo? E' presto detto, il Cardinale Pacelli ci ha messo in guardia contro quello che lui definisce il suicidio di alterare la fede. Questo deve necessariamente includere anche il Papa. Sì, deve. Che cos'è infatti un suicidio? E' la morte inflitta sul proprio corpo da colui che lo governa. Se la testa non è disposta a suicidarsi, la mano non agirà. Nel caso della Chiesa, questa minaccia proviene necessariamente dal suo interno, cioè dal suo capo, dal suo vertice. In altre parole, da colui che occupa l'ufficio Petrino. Esaminiamo quindi la profezia del Cardinale Pacelli, tenendo a mente la seguente domanda. Riguarda eventi futuri o li stiamo già vivendo? Come affermava padre Gruner nella sua lettera inviata a tutti i suoi sostenitori poco prima di morire, a seguito di quella conversazione avuta con padre Amort. Se dovessimo esaminare il commento del Cardinale Pacelli sui messaggi della Madonna di Fatima, riga per riga, potremmo stare qui fino a mezzanotte. Sono stati scritti libri interi solo sulla questione dell'aver alterato la liturgia, quindi, per una questione di tempo, mi soffermerò su di un passo in particolare. Verrà un giorno in cui, quando la Chiesa dubiterà come dubitò Pietro, sarà allora tentata a credere che l'uomo sia diventato Dio. Prima di passare oltre, dobbiamo chiarire subito che nel momento in cui il Cardinale Pacelli ci mette in guardia contro la Chiesa, che potrebbe arrivare a dubitare come dubitò Pietro ed essere tentata di credere che l'uomo è diventato Dio, egli sta puntando il dito contro quegli uomini che parlano e insegnano in nome della Chiesa, compreso il Papa. Non sta parlando di Santa Madre Chiesa, sta parlando del suo elemento umano, non la Chiesa stessa, perché sappiamo che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Essa, in altre parole, è indifettibile. Molti cattolici lottano per conciliare questa indifettibilità della Chiesa con l'evidente perdita di fede da parte di coloro che parlano in suo nome, soprattutto il Papa. Da un lato è una cosa del tutto comprensibile, siamo infatti predisposti a confidare nei nostri pastori e questa è una buona cosa. Ma può essere anche il segno di una fede che manca di una solida base scritturale, perché la scrittura ci dice molto chiaramente che queste due verità non si escludono a vicenda. La Chiesa è indifettibile, eppure vi sarà un momento in cui i suoi pastori perderanno la loro fede e daranno solo l'impressione di insegnare la religione cattolica. Detto ciò, proviamo a prendere in considerazione che cosa significhi per la Chiesa dubitare come dubitò Pietro. Che cosa vuol dire come dubitò Pietro? Colui che aveva manifestato una professione di fede così magnifica, con le parole tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ricordate quella scena nei Vangeli, giusto? Ecco, come poté dubitare Pietro? E che cosa vuol dire che la Chiesa dubiterà come Lui? Ricordiamoci ciò che accadde immediatamente dopo, quella professione di fede, come racconta San Matteo. Dall'ora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli iscrivi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo «Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai!» Ma egli, voltandosi, disse a Pietro «Lungi da me, Satana!» E cosa ci dice questa scena in merito ai dubbi di Pietro? Innanzitutto che il suo dubbio è duplice. Da un lato Pietro dubita che Gesù possa soffrire e morire. Ciò significa che Pietro dubitava della resurrezione di nostro Signore. Se Gesù non avesse sofferto e non fosse morto per noi, non sarebbe potuto risorgere. Nessun evento della vita di Gesù Cristo rivela la sua divinità più chiaramente della sua resurrezione. Ma prima di passare ad analizzare questo passo tratto dal Vangelo di Matteo, c'è un'altra cosa da scoprire in merito ai dubbi di Pietro, e cioè le origini di tale dubbio. Nostro Signore dice a Pietro «Lungi da me, Satana!» Sta parlando di qualcosa di ben diverso dal semplice titubare di un fedele. E questo significa che ciò di cui parlava il Cardinale Pacelli quando disse «giungerà un tempo in cui la Chiesa dubiterà come dubitò Pietro» si riferisce a questioni che vanno ben oltre, alla tendenza perfettamente umana di allontanarsi dalla fede. Lo facciamo tutti. Prima o poi tutti noi abbiamo ripetuto almeno una volta le parole del Vangelo di Marco «O Signore, io credo, ma aiutami nella mia incredulità». Qui però non si tratta di questo. Il Cardinale Pacelli stava parlando dei dubbi ai quali ha fatto riferimento la Madonna durante la sua apparizione di Fatima. Un dubbio che non dietro di sé. C'è proprio il maligno. Certo, per tanti cattolici liberali, e forse anche per diversi conservatori, le persone che si trovano in questa sala non sono altro che un mucchio di gente estravagante che si è presa la briga di perdere una giornata per affrontare la questione se sia possibile che la Chiesa sia stata infetta persino ai suoi vertici, con un dubbio che definiamo diabolico. Ma la Madonna dissentirebbe da certi commenti. Sono sicuro che vi ricorderete degli avvertimenti lanciati da Suor Lucia in merito al disorientamento diabolico che avrebbe colpito la Chiesa persino ai suoi vertici. E come possiamo scordarci le terribili parole di Paolo VI circa il fumo di Satana che da qualche fessura si è insinuato nella Chiesa, le parole della Madonna e di Paolo VI acquisteranno via via sempre più significato mentre andremo avanti nel mio discorso. C'è infatti molto di più da scoprire in merito al dubbio diabolico di cui parla Matteo nel capitolo 16. Nel capitolo 14 di quello stesso Vangelo infatti leggiamo di ciò che accadde agli Apostoli quando, mentre si trovavano in una barca, vennero colpiti da una tempesta e cominciarono ad avere paura. In lontananza videro nostro Signore camminare sulle acque il quale disse loro Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli disse Signore, se sei tuo, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse, vieni. Pietro scendendo dalla barca si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù ma per la violenza del vento egli si impaurì e cominciando ad affondare gridò Signore, salvami. E subito Gesù stesse alla mano, lo afferrò e gli disse Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Anche in questo passo possiamo vedere la vera natura del dubbio di Pietro non il fatto che sia davvero Gesù colui verso il quale sta camminando. Pietro sa che si tratta di Gesù che si è identificato per nome e poi è una volta ancora quando chiede a Pietro di venire da lui. Pietro conferma di aver capito che è Gesù anche quando invoca il suo nome per chiedere aiuto Signore, aiutami. La natura dei dubbi di Pietro in questo caso è il fatto che Gesù sia vero Dio. È importante da tenere a mente specialmente alla luce degli avvertimenti profetici della Madonna di cui parlò il Cardinale Facelli e ricordati anche da Prater Gruner nella sua ultima newsletter. Anche se Pietro aveva riconosciuto Gesù come suo Signore per ben due volte egli dubitò che fosse Dio. In altre parole Pietro riconobbe in Gesù l'uomo verso il quale aveva incominciato ad incamminarsi sull'acqua ma egli dubitò che Gesù fosse davvero Dio. E tutto questo malgrado Pietro avesse già assistito alla potenza di nostro Signore sul creato quando Gesù calmò le acque. Sono sicuro che vi ricordate di questo passo dei Vangeli. I suoi discepoli erano in barca ma questa volta assieme a Gesù. Una terribile tempesta li sballottò di qua e di là e gli apostoli hanno paura di morire. Gesù stava dormendo e quando lo svegliano gli dice «Oh, uomini di poca fede!» Dopodiché placa i venti e le acque e tutto torna alla normalità. In seguito a questo grande miracolo compiuto anch'esso con l'intenzione di far capire ai suoi discepoli che Gesù era davvero chi diceva di essere, cioè Dio, i suoi apostoli, tra cui anche Pietro, cominciarono a chiedersi che razza di uomo è mai questo e cui comandi obbediscono persino le acque. Pietro sapeva che Gesù era un uomo ma dubitava del fatto che egli fosse il Signore di tutto il creato. Questa è la natura del dubbio di Pietro. Verrà un giorno in cui la Chiesa dubiterà come dubitò Pietro quando verrà tentata di credere che l'uomo è diventato Dio. Questi due avvertimenti vanno di pari passo, cioè sono intimamente collegati l'uno con l'altro, il corollario dell'essere tentati di credere che l'uomo è diventato Dio, infatti, è la tentazione di trattare Gesù Cristo come se fosse meramente un uomo. Significa dubitare come dubitò Pietro e questo ci riporta alla questione di oggi. Possiamo dire che gli avvertimenti di Patima su di un castigo terribile che secondo padre Malachi Martin implicavano il ritiro della grazia da parte di Dio si stanno verificando proprio sotto i nostri occhi come ritenuto da padre Gruner nella sua ultima newsletter? Oppure, per dirlo usando le parole del cardinale Pacelli, possiamo affermare che il dubbio di Pietro sulla divinità di Gesù Cristo è riuscito in qualche modo a penetrare e ad infettare coloro che parlano in nome della Chiesa fino ad includere persino il vicario di Cristo in terra? Come possiamo essere certi che questo dubbio abbia colpito anche l'attuale pontefice? Quali sono i segnali che potrebbero rivelarcelo? È una buona domanda. Ricordatevi la fonte del dubbio di Pietro lungi da me Satana. Stiamo parlando del maligno, signori. Stiamo parlando dell'inganno di Satana, il principe degli ingannatori, un essere troppo scaltro per rendere manifesto il suo inganno. In altre parole, peccheremmo di ingenuità. Se ci aspettassimo che un Papa possa mai pubblicare un decreto apertamente eretico, non accadrà mai. Nessun Papa si metterà mai ad indire una conferenza stampa per dire che Gesù era solo un uomo. Beh, Francesco potrebbe in effetti, ma le probabilità sono scarse. No, dobbiamo stare allerta per qualcosa di più sottile. Dovremmo aspettarci che il dubbio di Pietro sulla divinità di nostro Signore sia determinabile in qualche modo nelle parole e nelle opere dei suoi successori. Qualcosa però che ci indichi chiaramente quello che sta accadendo, anche perché la Madonna non è giunta per darci un indovinello indecifrabile, ma ci ha messi in guardia su cose che tutti avrebbero potuto notare e scoprire. Ora, detto questo, e sempre ricordandoci quel che afferma Pietro subito dopo aver espresso la sua fede in Gesù, subito dopo che Gesù gli ha detto tu sei Pietro e su questa pietra io costruirò la mia chiesa, ricordiamoci cosa disse Dio te ne scampi Signore facendo così intendere la sua incredulità rispetto alla sua resurrezione. Dicevo con queste parole in mente andiamo ad analizzare cosa ha detto Papa Francesco in merito alla resurrezione. Che so, magari troveremo qualche prova del suo essere infetto dello stesso dubbio che infettò Pietro. Consideriamo una delle tante omelie in cui l'attuale pontefice ha umiliato i cattolici tradizionalisti. Ad esempio quando ho affermato che ci sono poi i cristiani che hanno un atteggiamento trionfalista i quali nel loro intimo non credono nel risorto e vogliono fare loro una risurrezione più maestosa di quella vera. Ma che cosa significa esattamente trionfalista? Padre John Harden ha fornito un'eccellente definizione di questo termine. Esso ha un'accezione derogatoria quando riferito alla Chiesa Cattolica perché sosterrebbe la pretesa che solo essa possieda la pienezza della rivelazione divina ed il diritto di giudicare i doveri sociali e personali di tutta l'umanità. L'etimologia di questo termine deriva ovviamente dal latino triunfus che è l'atto di gioire per una vittoria. Ora chiedo ai presenti una cosa alzi la mano chi non crede che la Chiesa Cattolica abbia la pienezza della rivelazione divina ed il diritto di giudicare le attività dell'umanità. Nessuno? Come immaginavo una sala piena di trionfalisti a quanto pare ma ovviamente è un vanto non certo una colpa. Allora chiediamoci a questo punto di quale vera resurrezione stia parlando il Papa quella che alcuni cattolici come noi tenderemmo ad esagerare di che cosa sta parlando. Secondo l'enciclica qua prima Sid più undicesimo è la stessa resurrezione grazie alla quale Gesù si attribuì il nome di re e pubblicamente confermò di essere re e annunziò solennemente a lui era stato dato ogni potere in cielo e in terra e con queste parole che altro si vuol significare se non la grandezza della potestà e l'estensione immensa del suo regno. Ecco questa è la vera resurrezione e direi che a quanto maestosa è trionfale non credete? Anzi ci chiediamo come sia possibile che Papa Francesco possa pensare che sia possibile persino concepire qualcosa di più glorioso e maestoso la risposta purtroppo sta nel fatto che la sua interpretazione della resurrezione e realtà impallidisce dinanzi a quella vera cioè l'evento più importante della vita di nostro Signore è quello che prova oltre ogni dubbio la sua divinità questo significa dubitare come aveva dubitato Pietro ma nel caso dell'attuale pontefice la situazione è assai più tragica i dubbi di Pietro furono infatti momentanei possiamo solo pregare che lo siano anche quelli di Francesco ma se nel caso di Pietro quest'ultimo non era né sacerdote né tanto meno Papa all'epoca dei suoi dubbi anche perché Gesù doveva ancora passare attraverso la sua passione morte e più importante tra tutti resurrezione gloriosa per quanto riguarda Papa Francesco il discorso è ben diverso insomma poniamo il dubbio di Pietro nella giusta prospettiva applichiamolo al giusto contesto senza dimenticarci tuttavia che l'impatto di questo dubbio sulla Chiesa ed il mondo in generale e quindi su tutte le anime che ci vivono è devastante quando le parole e le azioni di un Papa sembrano anche lontanamente sminuire o ignorare la divinità di Nostro Signore ecco che la Chiesa comincia a flertare con il suicidio perché beh perché il Papa è il capo visibile del corpo di Cristo sulla terra la Chiesa Cattolica e la divinità di Cristo e la vita stessa della Chiesa la Chiesa è come un organismo vivente un organismo con una missione terrena e soprannaturale ben precisa salvare anime per l'aldilà quando viene meno l'abbraccio divino di Gesù Cristo specialmente nella figura del suo vicario in terra e il Papa la Chiesa tenderà a focalizzarsi sui bisogni e scopi temporali a quasi esclusione di quelli spirituali possiamo aspettarci inoltre che nel momento in cui affiorino dei dubbi sulla divinità di Nostro Signore da parte del capo visibile della Chiesa allora accadrà che le dottrine della fede cattolica verranno cominciate ad essere viste come mere regole e regolette che devono essere cambiate di continuo per venire incontro alle esigenze dell'uomo moderno sarà allora che tali dottrine non verranno più presentate al mondo per quello che sono realmente e cioè decreti immutabili e senza tempo di colui che tornò trionfalmente dalla morte in gloria per sedere alla destra del padre dottrine che invitano l'uomo alla comunione con Gesù Cristo che è vero Dio c'è una chiara relazione di causa ed effetto in questo caso se non abbiamo dubbi sul fatto che Gesù Cristo è vero Dio che proviene dall'alto dei cieli allora è sottinteso che la legge divina espressa dalle dottrine della chiesa che parlano in suo nome non sono solo liberatorie salvifiche ma anche non negoziabili perché? beh perché stiamo parlando dei comandamenti di Cristo Re sono doni che ci ha fatto il cielo provengono da colui che è giunto dal cielo in mezzo a noi di colui che ha detto chi ha visto me ha visto il padre chi siamo noi per negoziare questi doni del cielo addirittura Dio ce ne scampi cercare di cambiarli in qualche modo oggi durante la messa abbiamo sentito questo passo tratto dal primo capitolo della lettera di San Giacomo ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal padre della luce nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento se un fedele è tentato di dubitare fortemente della divinità di Cristo del fatto che egli provenga dall'alto allora potrebbe essere tentato di ritenere che la Chiesa Cattolica che parla in nome suo per mezzo dei suoi dogmi di fede discenda anch'essa dall'uomo e non da Dio in questo caso i dogmi e le dottrine della Chiesa potrebbero davvero essere soggetti a cambiamenti e modifiche nel corso delle epoche da parte di altri uomini ma non è tutto nella seconda parte della profezia di Papa Pacelli egli affermò che verrà un tempo in cui la Chiesa sarà tentata di credere che l'uomo è diventato Dio perché vedete se si crede che l'uomo è diventato Dio allora la legge divina non è più superiore all'uomo ed è quindi suscettibile di modifiche di rettifiche può essere cambiata a piacimento non ve' dubbio cari amici che se si vuole capire qual è la vera natura della crisi che sta affliggendo la Chiesa Cattolica in questo preciso momento storico non basta altro che aprire la Moris Letizia la recente esortazione sulla famiglia di Papa Francesco mi rifiuto di definirla apostolica per un motivo ben preciso e cioè che ben difficilmente gli apostoli avrebbero mai potuto riconoscerlo come proveniente nemmeno da uno studente del primo anno di teologia e certo men che mai da un successore di Pietro ma cosa c'è di così grave in questo documento al punto da farci pensare che l'attuale pontefice dubiti della divinità di Cristo durante la sua conferenza stampa sul volo che lo stava riportando dalla Grecia a Papa Francesco è stato chiesto se alla luce della Moris Letizia esistano ormai nuove e concrete possibilità per far accedere ai sacramenti coloro che si trovano in situazioni irregolari in altre parole gli è stato chiesto se è legittimo ad operare cambiamenti ed alterazioni alle applicazioni della legge divina nella vita della Chiesa qualcosa di assolutamente senza precedenti ascoltate bene la risposta di Francesco ricordandovi che per situazioni irregolari si sta parlando di relazioni adulterine e omosessuali Francesco ha risposto che per quanto riguarda l'accesso ai sacramenti per quelle persone che insistono a commettere tali peccati io potrei dire sì e punto ma sarebbe una risposta troppo piccola raccomando a tutti voi di leggere la presentazione che ha fatto il cardinale Schoenborn che è un grande teologo lui è membro della congregazione per la dottrina della fede conosce bene la dottrina della chiesa in quella presentazione alla sua domanda avrà la risposta bene allora andiamo a rileggerci cosa ha detto il cardinale Schoenborn in merito alla Morris Letizia papà Francesco ha posto la sua esortazione sotto la frase guida si tratta di integrare tutti AL 297 perché si tratta di una comprensione fondamentale del Vangelo noi tutti abbiamo bisogno di misericordia poi il cardinale cita le parole di nostro signore chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra nella Morris Letizia troviamo questi riferimenti alle pietre scagliate contro gli altri cito testualmente Papa Francesco invece di offrire la forza risanatrice della grazia e la luce del Vangelo alcuni vogliono indottrinare il Vangelo trasformarlo in pietre morte da scagliare contro gli altri è nel paragrafo 49 poi proseguendo afferma un pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni irregolari come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone paragrafo 305 bene ringraziamo il cardinale Schoenberg per aver chiarito senza ombre di dubbi che quando Papa Francesco parla di pietre lanciate sta parlando del passo evangelico della donna accusata da adulterio ma rilaggiamocelo a quel passo allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono maestro questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa tu che ne dici questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo ma Gesù chinatosi si mise a scrivere col dito per terra e siccome insistevano nell'interrogarlo alzò il capo e disse loro chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva per terra ma quelli udito ciò se ne andarono uno per uno cominciando dai più anziani fino agli ultimi rimase solo Gesù con la donna là in mezzo alzatosi allora Gesù le disse donna dove sono nessuno ti ha condannata ed essa rispose nessuno signore e Gesù le disse neanch'io ti condanno va ed ora in poi non peccare più rileggendo questo passo tratto dal Vangelo secondo Giovanni si può giustamente osservare che il nostro signore stava semplicemente applicando la legge morale quando disse a quella donna va ed ora in poi non peccare più e questo ci impone di chiederci una domanda davvero tremenda una domanda che non avremmo mai voluto porci Papa Francesco ha forse accusato Gesù Cristo di aver lesinato la sua grazia e di aver lanciato pietre se la Morris Letizia va presa seriamente sembra proprio così sembrano parole di una persona che crede che Gesù sia Dio semmai di un uomo che dubita come dubitò Pietro la risposta è già chiara ma lo diventerà ancora di più nel proseguio del mio discorso il cardinale Schoenborn ha chiarito ulteriormente ciò che la Morris Letizia si propone di cambiare per me a Morris Letizia è perciò soprattutto in primo luogo un avvenimento linguistico così come lo è già stato l'Evangelii Gaudium qualcosa è cambiato nel discorso ecclesiale questo cambiamento di linguaggio era già percepibile durante il cammino sinodale tra le due sedute sinodali dell'ottobre 2014 e dell'ottobre 2015 si può chiaramente riconoscere come il tono sia divenuto più ricco di stima come si siano semplicemente accolte le diverse situazioni di vita senza giudicarle o condannarle subito il cardinale Schoenborn non avrebbe potuto essere più chiaro di così ci sta dicendo che il linguaggio proveniente dal Vaticano di Francesco esprima stima per coloro che praticano l'adulterio la fornicazione e l'omosessualità non malgrado il loro peccato non perché si siano pentiti di tali peccati e abbiano emendato le proprie vite no proprio perché quei peccati sono stati semplicemente accettati senza giudizio o condanna come ricordato ieri da Chris Ferrara in un suo intervento il cardinale Schoenborn durante la conferenza stampa di presentazione della Morris Letizia ha inoltre affermato che la mia grande gioia per questo documento sta nel fatto che esso coerentemente supera l'artificiosa esteriore netta divisione tra regolare e irregolare capito? la divisione tra peccati immortali come l'adulterio la fornicazione e l'omosessualità e lo stato di grazia viene ormai definita artificiosa e superficiale vi sembra l'insegnamento di uomini fedeli o le confuse farneticazioni di persone alle quali Dio ha tolto la sua grazia? ricordiamoci che il ritiro della grazia è uno dei segni esteriori delle profezie più oscure del messaggio di Fatima proprio come ha detto padre Gruner quindi per riprendere la risposta data da papa Francesco il quale a sua volta aveva rimandato alle parole di Schoenberg è cambiato qualcosa con la moris Letizia? purtroppo direi proprio di sì ed in modo drammatico nel testo di questa esortazione Francesco usa parole come risposati o nuove unioni per riferirsi a coloro che hanno ottenuto un divorzio civile parla persino di matrimoni irreparabilmente distrutti la chiesa cattolica con l'aiuto della grazia di Dio insegna invece che nessun matrimonio irreparabilmente distrutto a meno che non sopraggiunga la morte di uno dei due coniugi quando si parla di nuove unioni che discendono da questi cosiddetti matrimoni distrutti non si tratta altro che di adulterio ma Francesco non lo definisce così e men che mai chiede il pentimento da parte di coloro che perseverano in simili relazioni anzi al contrario affermà che non esistono facili ricette davvero? la confessione l'atto di contrizione il fermo proposito di non peccare più mescolali assieme e cosa otterrai? la soluzione sacramentale da parte di nostro Signore Gesù Cristo ma questo ovviamente richiede un coinvolgimento attivo da parte del peccatore è chiaro che senza questi tre ingredienti confessione contrizione pentimento la soluzione non può essere valida ma si tratta di una ricetta alquanto semplice direi Dio sa perdonare molto ma a quanto pare questo pre Francesco non è vero ora ditemi se questo non è un vero e proprio suicidio dato dall'alterare la fede di cui aveva parlato il cardinale Pacelli o forse visto da un altro punto di vista non suona come uno dei castighi di cui ci parlò la Madonna di Fatima lo stesso al quale aveva alluso padre Gruner nella sua ultima newsletter e non suona come un qualcosa che sta avvenendo adesso sotto i nostri occhi considerate quest'altra gemma tratta dalla Morris Letizia è una citazione diretta che ha riportato anche Chris Ferrara nel suo discorso di ieri ma che penso valga la pena ripetere quest'oggi non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta irregolare vivano in stato di peccato mortale privi della grazia santificante in altre parole Francesco ci sta dicendo che non si può dire che tutti coloro che continuano ad insistere a vivere nel peccato perseverando nell'adulterio nella fornicazione nell'omosessualità si trovino in una situazione di peccato mortale cosa che per definizione implica la perdita della grazia santificante sono parole difficili da accettare ma dobbiamo dire la verità questa esortazione di Papa Francesco non rappresenta le parole salvifiche e piene di grazia di Gesù Cristo al contrario contiene le menzogne seducenti del suo avversario le stesse che conducono alla perdizione eterna ciò che è peggio è che tali parole sono state pubblicate dal Vaticano sono ufficiali sono state distribuite in tutte le diocesi del mondo alla luce di questa eresia perché di questo si tratta cerchiamo di appellarci al concilio di Trento per avere qualche delucidazione dogmatica si perde la grazia della giustificazione con qualsiasi peccato mortale e con ciò difendiamo l'insegnamento della legge divina che esclude dal regno di Dio non soltanto gli infedeli ma anche i fedeli impuri adulteri effeminati sodomiti sono parole del concilio di Trento sessione sesta capitolo quindicesimo fate caso al fatto che il concilio identifichi questo insegnamento come una difesa dell'insegnamento della legge divina quindi cosa spinge Papa Francesco a contraddire spavaldamente questo insegnamento e a dichiarare che fornicatori adulteri e bugiardi non si trovano necessariamente in una condizione di peccato mortale quindi non sono privi della grazia santificante che cosa lo spinge a dire una cosa del genere la risposta è semplice e tragica allo stesso tempo l'abbiamo accennata a poco fa chi dubita come dubitò Pietro cioè coloro che dubitano sulla divinità di Cristo sono tentati di ritenere che la voce di Cristo che parla per mezzo della sua chiesa come quando si espresse il concilio di Trento ad esempio non è altro che la voce dell'uomo secondo questa visione i padri del concilio di Trento papi, viscovi e cardinali che furono molto attenti nella formulazione dei decreti dogmatici di quel concilio erano soltanto uomini che ad un certo momento hanno parlato di certe cose solo per rispondere alle problematiche della loro epoca qualunque cosa abbiano fatto pertanto è passibile di modifiche da parte di altri uomini di altre epoche con le loro problematiche ed affrontare le loro idee questo è ciò che spinge Papa Francesco ad affermare così sfacciatamente che coloro che perseverano in tali peccati quelli che vivono in condizioni da lui surrentiziamente definite situazioni irregolari non possono più essere considerati necessariamente come in una condizione di peccato mortale purtroppo amici miei questa non è altro che eresia pura e semplice eresia ma non perché lo dico io qui la mia opinione non conta affatto e nemmeno la vostra mi dispiace dirlo è lo spirito santo che informò le decisioni dei padri del concilio di Trento a contare non credete a me credete a ciò che disse il concilio di Trento se l'insegnamento eretico di Francesco non è sufficiente a farci credere che Dio abbia ritirato la propria grazia allora non so cosa potrebbe convincervi c'è chi si è chiesto poverini ci sono persone che persistono in questi peccati a causa dell'ignoranza e di loro che cosa dobbiamo farne beh il problema è che Papa Francesco è arrivato ad includere in quella sua lista anche coloro che peccano e perseverano nel peccato scientemente cito ancora una volta testualmente dalla Morris Letizia per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta irregolare vivano in uno stato di peccato mortale privi della grazia santificante i limiti non dipendono semplicemente da un'eventuale ignoranza della norma un soggetto pur conoscendo bene la norma può avere grande difficoltà nel comprendere valori insiti della norma morale o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa AL 301 questo è il paragrafo che Ferrara ha giustamente definito una bomba anzi io direi addirittura diabolico è diabolico Francesco ci sta dicendo che se un individuo persevera in una relazione che implica l'adulterio la fornicazione o persino l'omosessualità anche quando costui conosce bene la norma anche in questo caso non si può affermare che egli sia in una condizione di peccato mortale privo della grazia santificante signori questa è eresia notate le parole usate deliberatamente da Francesco quella che Francesco definisce norma è ciò che l'infallibile concilio di Trento aveva definito essere una legge divina si sa cosa accade alle norme giusto sono fatte per essere infrante ebbene verrà un giorno in cui la chiesa dubiterà come dubitò Pietro vedete se Gesù fosse stato soltanto uomo allora la legge divina non sarebbe altro che una norma introdotta dall'uomo che può essere cambiata in certe condizioni concrete come le chiama Francesco non penso che ci siano dubbi sul fatto che ad essere al centro della crisi ecclesiastica di oggi sia proprio la divinità di nostro signore Gesù Francesco è arrivato a dire che queste persone cioè coloro che volontariamente scientemente scelgono di peccare commettendo peccati che implicano la sodomia la fornicazione l'adulterio possono agire diversamente e prendere altre decisioni senza una nuova colpa pensate un po' alla scena in confessionale padre vorrei davvero smettere di avere relazioni extra coniugali ma se lo faccio ho paura che finirei per mettermi a rapinare le banche o magari ad uccidere il mio capo è una battuta ovviamente ma le parole di Francesco sembrano implicare che anche se coloro che sono coinvolti in queste relazioni adulterine cessassero di peccare in tal senso alla fine farebbero qualcosa di male da qualche altra parte ecco il livello di questa esortazione apostolica mi ricorda quei genitori da strapazzo che davanti ad un problema di droga dei propri figli dicono con un chalance si è vero si fa gli spinelli ma lo fa in cantina non lo vede nessuno sapete che manca da questo atteggiamento manca qualsiasi fede nella grazia di Dio ecco cose la grazia capace di sovrastare e superare il peccato la grazia di perseverare nella santità un concetto che non sembra passare nemmeno per un secondo nella mente di Francesco e lo sapete perché forse perché Dio ha ritirato la grazia dai cuori di quelle persone che come il Papa fanno parte del luogo da cui avrà inizio la grande apostasia della chiesa cioè sui vertici come predetto dalla Madonna di Fatima ma c'è di peggio sempre in merito alle cosiddette situazioni irregolari Francesco propone una gradualità nell'esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione di comprendere di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge AL 295 Francesco sta parlando non di norme ma della legge cioè ci sta facendo capire che in qualche modo sta parlando della legge di Dio almeno questo lo sa ci dice però che la legge di Dio per alcuni rappresenta un peso insostenibile che non tutti sono in condizione di comprendere o praticare pienamente con queste parole Francesco ha letteralmente rivolto contro Dio le parole che Gesù aveva rivolto contro i farisei ricordiamo l'episodio dei farisei di ciò che Gesù disse su di loro essi legano pesanti fardelli li impongono sulle spalle della gente ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito guai a voi scrivi ai farisei ipocriti che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini Matteo 23 4 e 23 13 pensateci Francesco ha appena detto che ci sono persone che non riescono a sopportare le richieste della legge di Dio come se la grazia di Dio non fosse sufficiente ad aiutarli a farlo se fosse davvero così se Dio avesse davvero imposto costrizioni e fardelli insopportabili sulle spalle dell'uomo allora Dio sarebbe un Dio ingiusto è come se Francesco stesse affacciato dalla finestra che dà su piazza San Pietro puntando il dito contro Dio orlando tu hai chiuso il regno dei cieli davanti agli uomini questo è ciò che significano le parole di Francesco penso che se padre Gruner fosse vissuto abbastanza a lungo da leggere i contenuti agghiaccianti di questa esortazione apostolica si sarebbe letteralmente stracciato le vesti ma forse no perché poi avrebbe dovuto andarsi a comprare una nuova tonaca insomma potrebbe andare peggio di così cos'altro dovrebbe fare Francesco per dimostrare il fatto che stiamo già sotto il castigo predetto di Fatima sfortunatamente il papa ha fatto di peggio prima di andare avanti però facciamo un breve riassunto di ciò che ha detto fino ad oggi senza commettere l'errore che fanno i difensori del papa quei conservatori tra virgolette che cercano di difenderlo in ogni modo stravolgendo quel che afferma o cercando pateticamente di minimizzare ciò che compie no noi vogliamo rispettare Francesco e valutare tutto ciò che dice prendendolo sulla parola ecco così facendo scopriamo che nell'ordine Francesco considera la legge divina sul peccato mortale come una semplice norma passibile di modifiche parole sue crede che in certe condizioni concrete il peccato mortale sia il meglio che si possa ottenere come se la grazia di Dio fosse insufficiente a farci sconfiggere il peccato ha dichiarato che Dio è ingiusto proprio come i farisei che ne volevano la morte e come avremo modo di vedere adesso è arrivato persino ad affermare che l'onnipotente talvolta ci chiede di perseverare nei peccati mortali dell'adulterio della fornicazione dell'omosessualità ve lo ripeto Francesco ha affermato che persistere in questi peccati mortali a volte significa fare la volontà di Dio vi cito cosa ha detto su queste persone Papa Francesco è nella Moris Letizia paragrafo 303 e cioè che bisogna riconoscere con sincerità e onestà ciò che per il momento è la risposta generosa che si può offrire a Dio e scoprire con una certa sicurezza morale che è quella la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo alla complessità concreta dei limiti sì avete sentito bene in un'esortazione indirizzata a vescovi sacerdoti diaconi persone consacrate coppie di coniugi cristiani e tutti i fedeli laici in altre parole in un'esortazione rivolta a tutta la chiesa universale Francesco non solo afferma che l'adulterio la fornicazione e l'abominio omosessuale sono a volte la risposta più generosa che si possa offrire a Dio mi è andato addirittura oltre affermando che Dio stesso sta richiedendo tali risposte mio Dio qui si va oltre l'eresia sono affermazioni blasfeme blasfemo Dio non potrebbe mai nella sua santità chiederci di peccare lo so è difficile da accettare fa male fa davvero male ascoltare certe cose una sofferenza che vedo dipinta nei vostri volti conosco tanti fedeli davvero sinceri nella loro fede fedeli ai quali i loro direttori spirituali anch'essi all'apparenza sinceri dicono non preoccupatevi di certe cose limitatevi a guardare a ciò che c'è di bello e giusto nella vostra fede concentratevi sulle grazie che vi giungono per mezzo dei sacramenti già concentrarci sulle cose belle che avvengono nella nostra comunità nella nostra parrocchia e questo su cui dovremmo concentrarci solamente è giusto chiudere gli occhi e far finta che là fuori vada tutto bene se qualcuno offendesse vostro marito vostra moglie questo non vi ferirebbe e se sapeste che nostro signore viene ferito terribilmente da queste parole non reagireste a tali uffese non possiamo dire di amare davvero Dio e la verità se non facciamo qualcosa anche nel nostro piccolo per reagire a ciò che sta accadendo a Roma i buoni doni della chiesa sono ancora tutti attorno a noi ma non possiamo chiudere gli occhi davanti alla gravità di una crisi senza precedenti per la fede cattolica perché è questo ciò che fanno le persone quando tengono a qualcosa stanno bene attente affinché non venga danneggiata rimediabilmente bene ieri Chris Ferrara ha dimostrato inequivocabilmente che le tante resie e blasfemie contenute nella Moris Letizia sono un mezzo per permettere ai peccatori pubblici e non intenzionati a pentirsi di accedere ai sacramenti in particolare alla Santa Eucaristia e tutto sotto legida di un presunto cambiamento della pratica pastorale mentre in teoria la dottrina della fede rimarrebbe intatta sempre tra virgolette ecco come si inserisce tutto questo nell'ambito del dubbio di Pietro di cui parlò il cardinale Pacelli nel fatto che se si dubita che Gesù sia veramente Dio allora è impossibile credere che l'Eucaristia nelle due specie del vino e dell'ostia consacrata sia davvero il corpo sangue anima e divinità di Gesù ma il Papa pensa davvero una cosa del genere per quanto possa odiare anche solo ipotizzare una cosa del genere io credo che i fatti parlino da soli pensateci se Francesco credesse davvero che Gesù Cristo è presente nel Santissimo Sacramento avrebbe mai permesso la promulgazione di un decreto che infrange quasi duemila anni di insegnamenti e disciplina ideati e concepiti proprio per evitare il sacrilegio dell'accesso a tale sacramento da parte di peccatori pubblici e impenitenti per non parlare dei gravi danni arrecati alle anime di coloro che si avvicinano al sacramento in quelle condizioni ovviamente no ma è proprio ciò che ha fatto Francesco se Francesco credesse davvero nella presenza reale del nostro Signore Gesù Cristo nell'ostia consacrata non si genufletterebbe forse dinanzi al Santissimo Sacramento durante la Santa Messa ovviamente sì ma guarda un po' non lo fa mai potete passare un pomeriggio cercando immagini e video su internet e forse troverete un paio di occhiazioni in cui lo fa ma la stragrande maggioranza delle volte non si inginocchia davanti al Santissimo Sacramento oh direte voi ma è una persona anziana le ginocchia gli fanno male davvero? non sembra avere problemi ad inginocchiarsi però quando lo inquadrano le telecamere dell'umiltà come le chiamo io quando è presente la stampa di Mezzomondo per riprenderlo mentre si inginocchia davanti agli uomini e lapea i piedi di musulmani ed eretici oppure quando si fa ritrare mentre confessa in mezzo a Piazza San Pietro allora sì che lo vedrete inginocchiarsi certo magari ha bisogno di un po' di aiuto ma tutte le volte che celebra Messa si fa sempre aiutare da qualcuno quindi la possibilità di farlo le ha se davvero credesse che Gesù Cristo è presente nell'ostia consacrata se istituissimo un ipotetico tribunale la cui giuria fosse composta da papi preconciliari e l'argomento del contendere fossero le eresie cristologiche quelle cioè che mettono in dubbio la divinità di Cristo possiamo essere certi che il verdetto di colpevolezza su Francesco verrebbe messo in pochi istanti e fortunatamente non sono l'unico ad affermare una cosa del genere dopo il concilio del 2014 dove le intenzioni di Papa Francesco cominciarono ad essere evidenti il cardinale Gerard Müller prefetto della congregazione per la dottrina della fede ha affermato che il tentativo di separare dottrina da pratica pastorale riflette una subdola eresia cristologica sta parlando il prefetto della congregazione per la dottrina della fede ma su un punto si sbaglia i giorni della sottigliezza sono finiti qui ormai di subdolo non c'è più niente si tratta di eresia conclamata ovviamente ci tengo a precisarlo anche se dovrebbe essere inutile e per ripetere le parole di San Pio X non possiamo e non dobbiamo pretendere di conoscere le disposizioni interne di un'anima che solo Dio può giudicare questo include ovviamente anche Papa Francesco San Pio X inserì queste parole nella sua enciclica Pasciendi Dominici Igregis contro gli errori del modernismo un documento ponderoso grande quasi la metà della Maurice Letizia ma ogni sua parola venne studiata attentamente e ha un impatto significativo e perfettamente ortodosso in quella enciclica San Pio X si scagliava senza freno contro il modernismo accusato di essere l'eresia di tutte le eresie senza tuttavia giudicare male la disposizione interiore delle anime dei fedeli perché solo Dio può farlo noi possiamo giudicare solo i fatti oggettivi che accadono davanti ai nostri occhi ma non per questo possiamo dobbiamo ignorare l'obbio nessuno di noi dovrebbe mi auguro quindi di aver chiarito la questione il giorno in cui la chiesa cioè il suo elemento visibile coloro che parlano in suo nome dicevo il giorno in cui la chiesa dubiterà come dubitò Pietro è ora è qui è adesso il giorno in cui i suoi vertici saranno tentati di credere che l'uomo è diventato Dio è ormai su di noi è oggi padre Gruner ricordando le parole di padre Amort ci aveva avvertito ebbene che cosa direbbe se fosse qui con noi al posto mio in questo preciso istante penso che ripeterebbe parola per parola ciò che aveva scritto nella sua ultima newsletter ve le rileggo l'ira di nostro signore è sempre più grande ogni giorno che passa senza che le parole della madonna vengano ascoltate ci porta verso un castigo terribile al di là di qualsiasi immaginazione purtroppo i pastori della chiesa non avendo obbedito alla madonna ed essendosi rifiutati di consacrare la russia al suo cuore immacolato hanno messo in pericolo il mondo e miliardi di anime dobbiamo avvertire il mondo le parole di Don Amort dovrebbero risuonare nei nostri cuori dobbiamo agire noi il tempo sta per finire cari amici se siete venuti a questa conferenza è anche per ricordare rendere i giusti omaggi all'opera di padre Nicholas Gruner ebbene il modo migliore per farlo sarebbe prendersi carico della sua opera dobbiamo essere noi ad avvertire il mondo come possiamo farlo siamo solo dei poveri laici certo ma insieme siamo molto di più per questo è importante sostenere il centro di Fatima sia spiritualmente per mezzo di preghiere e sacrifici sia economicamente con le vostre donazioni è davvero importante non solo perché l'eredità di padre Gruner possa continuare ad esistere ma affinché questo apostolato possa crescere ed avere successo se non lo avete già fatto inoltre vi consiglio di consacrarvi personalmente al cuore immacolato di Maria implorate nostro Signore di mostrarvi i tanti modi con cui potete diffondere la devozione alla Madonna di Fatima credetemi se lo farete Dio vi aprirà porte di cui non avevate mai nemmeno immaginato l'esistenza ma dovete cominciare a farlo al più presto ricordandovi le ultime parole di padre Gruner il tempo sta per finire in onore e gloria di Dio Onipotente padre Figlio e Spirito Santo grazie